Le tracce per la cristiana Le tracce . Probezze lavori , lamata . e poi li chi dei poco però non facciamo jammy dico me mode on dove va l'anteriore vado io non ce la farò mai non ce l'ho fatta aiuto funzionerà pure walkman qui c'è scritto andare di qua fare così e poi giù ok oh dear